La trasmissione è offerta da Tranitalia e da Sisal. Buonasera a tutti ed eccomi qui per riportarvi nel mondo del calcio. Vi presento subito l'ospite di oggi, il giornalista Marco Filacchione. Buonasera Marco. Ah, insieme a Marco oggi voglio ripercorrere la storia di un grande calciatore, un vero mito, Roberto Baggio o meglio il Divin Codino. Marco, innanzitutto so che hai scritto un libro su questo personaggio, come mai hai scelto proprio lui? Sì, scrisse il libro praticamente quando Baggio stava per chiudere la carriera e scelsi lui perché era l'unico e credo che negli ultimi anni sia stato l'unico campione veramente trasversale, cioè quello che piaceva a tutti, quello che non era legato a una tifoseria in particolare ma che era apprezzato in tutta Italia. E in effetti poi le vicende del libro che è stato renduto appunto in tutta Italia hanno dimostrato questo, cioè non è un campione legato a una specifica tifoseria ma è un campione autenticamente nazionale. Infatti è considerato tra i migliori giocatori della storia italiana, occupa la sedicesima posizione e primo italiano nella classifica dei migliori calciatori del ventesimo secolo. Secondo te qualche altro calciatore meriterebbe questa classifica?